Buon Natale, Buon Pasqua Buon Natale, Buon Pasqua Buon Epifania Buon Ferragosso ragazzi che qua dove siamo come tutta Italia non sta mica facendo freddo noi siamo a Palermo noi siamo a Palermo a Palermo a Palermo a Palermo a Palermo a Palermo Palermo facciamo la arma di esperienza infinita Tumarro Tamarro Tumarro Tumarro chi è Tamarro Lorenzo quello lo sapevo oltre a lui Lorenzo Cavicchi che basta no 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 anche Lorenzo Cavicchi anche Lorenzo Cavicchi lo parlo come era quella frase sul mio stato di Whatsapp è scritto Abbasso Cavicchi viva Calvicchi è scritta calvicchi infatti 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 l'ho chiamato Lorenzo il ciccione non è vero dai non simbolezzano le persone effettivamente effettivamente dovrebbe evitare di urlare io sono ingrassato di un chilo in queste vacanze di Natale ok eh what the hell andiamo lì ho messo il ping no patrilice da fare una sfida eh lo so l'ho chiamata l'ho chiamata l'ho chiamata l'ho chiamata l'ho chiamata l'ho chiamata una sola ah è una sola io volevo fare quello prima prima io volevo fare vabbè andiamo prima lì ma non sta là non sta non sta a boschetto la sfida ma non sta lì ma non sta lì è sotto la trovezza guarda è sotto la trovezza è che non sta qua la sfida allora adesso io non sono l'unico scemo incompetente eh mica tanto noi siamo incompetentissimi ma Lorenzo ma tu dove stai andando dove bisogna fare la sfida dove bisogna fare la sfida ma che ha detto che la sfida stava quando stava mica la oh ho trattato una cesta leggendaria raro guardate muto io vado da Lorenzo non sei una tessola e mi deve valere mi deve valere mi deve valere go go la prima missione di ricerca è fallita ma sai come si dice si chiude un portello là ci sta la sfida si apre un portellone si e dietro c'è un razzo ancora più grosso con tanti altri allora perchè mi stai rimandando a boschetto che dovrei andare in cercare tu no io non mi vedessi di andare a boschetto c'ero io a boschetto ah era il tuo di bing eh che scemo che palle ok ok ho deciso no 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 ho deciso tre persone ti giuro lo sai un team vabbè non ci sta nessuno no ragazzi io vi odio vi odio non mi idro di animo più no adesso ho qui da te Simo da te no ma non c'è una partita no 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 fermo fermo tanto la schedina dura tanto per attacco ma non ci riuscire ma siamo fuori sei ragazzi e viggio ti giuro fate schifo fate schifo fate schifo come ne avevo detto di andare lì su quell'isola guardate io dico poi c'è una seconda cosa da ciò vuoi non mi ascoltare non è tanto vedo la cosa non c'è dire devi andare lì per la prima fase più in telefono sul telefono che sul nintendo che ho detto? ho più in telefono sul nintendo che sul gioco non cadere al capito lo vedo qua l'appartenato sono morto ne sono riusciva a venire perché stavo fuori sei ma hai abbandonato? si intanto che facevo e mi salvavate stavo fuori sei ma si ma che ma si che ti salvavano no? che brutto gnomo si 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 provateci mi auguro a questa volta che è munita io non mi guardo proprio mi prendevamo la schedina maronne oh aspetta vedi dove stavo vedi dove stavo eh beh era possibile era possibile che mi rifatti tutti noi e anche voi eh ve lo dico dettagli dettagli importanti god certo ma non fate schifo se ne mancano avete fatto la sfida è andata a parte cos'è il caso e ne manco la sfida di fatto ed è lasciato morire me l'ha uccido no no Lorenzo mi sa che non funziona devi morire da quella persona devi morire hai capito? l'ha scellato l'ha scellato l'ha scellato l'ha scellato ha fatto lui l'ha scegito l'ha scegito l'ha scegito l'ha scegito l'ha scegito l'ha scegito contro voi hai scegito fatto ti ho fatto arrabbiare signor padrone ok sire scusa sire vostra signoria sire non sono scegito domani è il mio compleanno eh non lo so l'ho visto allo staffo lo sa io già lo sapevo e perchè tu mi conosci da quando siamo nati? gred forse non lo saprà che domani è il mio compleanno tu dovresti sapere la memoria e certo 12 febbraio questo lo sape io non so mi ha detto adesso l'ha detto allora sei proprio scemo eh nooo abbasso calvicchi e alzo ferrara bravo qual'è il motto di simona che sai tu cognome e patrizio? eh non lo diciamo almeno un cognome lo lasciamo stare allora allora abbasso calvicchi e viva patrizio cognome censurato e viva ferrara lo posso dire patrizio? che cosa? un cognome? no no ho detto si tanto che cambia chiaramente poi dico il tuo è stato il mio già lo sanno il mio è mio e appena sono arrivato su su questa mettaforma di trici già sanno tutto eh? no non lo so ma l'ha scritto nello stato? il mio motto il mio motto il mio motto è scritto a ferrara che noi potrà essere che quello è con mio nome lato che mi chiamate se ma è mio nome certo oh mi ha lacerato oh mi ha lacerato dai padri vieni dai padri vieni si goddo sei morto simone rotto basta urlari non sto urlando io sto parlando no si è fatto male povero fondazione ehi fammi prendere la scheda no vabbè non scatarrare lorenzo lorenzo e che palle che vuoi? lorenzo ho capital city hunger games e ho anche il carto della rivolta il? ho sia anche il games la ragazza di fuoco che il carto della rivolta perché? Perché mi ha dato mia sorella Che doveva andare gentilmente Al Mondadori Mi ha fatto favore Com'è il Il pianto della rivolta? Ma seriamente vi da Le manco l'ho letto È arrivato adesso Il libro a me Ma seriamente vi da Ragazzi devo un attimo andare E lavorare FK per 2 minuti Ma chi ti salta? Ma me Mi ha detto di rifarla No padre ho capito come si fa Ma Lory Mi ha detto di rifarla tutta da capo Sì tanto devi andare lì L'ho capito come si fa Rieccomi Ammazza sti 2 minuti che ho passato in fretta Ti dico quanto è grande il canto della rivolta Quante vagina Aspetta devo vederlo Oddio Allora ci siamo finiamo Il cattolo da rivolta Per il prego Ho c'è visto cose che non vorrei I vecchi è un 370 pancini Vero? Sì No non è un fumetto Sì vecchio Aveva 307 Tutti erano tutte due E' un certo E' un certo E' un certo Stata 5 A dove c'è 370 Vero Sì E' un certo 420 E' un certo Ma è facile Facile E' un certo No ma prendiamo lì Dobbiamo fare la sfida Ho fatto io a bobbine No da più E' un certo Fai schifo Allora Sono in strada E' un certo Mi ha messo Ma Tu mi devi solo seguire Io già so cosa Cos'è Il mio padrone Sono un cane Guardi chi è il tuo padrone Il mio padrone è Patrice Non è Lorenzo Perchè adesso fa schifo Cioè Per carità Cioè Mi ringrazio Il mio cane Mi ha messo con Patrice Non per Con la Ma vai a cari Ma capito Non stavo ascoltando Oh Hai sentito Madre di Lorenzo Che merito Che devo andare A acqua Eccomi E' fallita Sto sentendo Si chiude un portello Si apre un portellone Ma non è la Si apre una porta Si chiude un portello Cioè Si chiude una parte Si apre un portone Eh si Ho visto il suo smente signore Eh qui c'è qua che c'è Hai trovato? Vieni Si sta qua Vieni Ma cosa? Dove c'è? Il telescopio Papà dove c'è? Dove c'è? C'è qua ecco grazie Devo distruggerlo Grazie Sì lo devi spaccare E poi lo devi raccogliere Dove sta la cosa Ah devo raccogliere Mamma mia Che è difficile papà Eh non va bene Te l'ha data? Sì sì Ora Dobbiamo andare Che cosa? Oddio no 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 Oddio Oddio venga Venga padrone Sono Dobby Dove ti vuoi andare Sei un hobbit Sono Dobby Dove ti vuoi andare Non sei nessuno tu Vieni Tu sei No aspetta Aspetta Scusa ancora Però c'ho il Questo migliorerà Non ho fatto sciacca Aspettate devo scherrare Che è? Che è successo? No raga Venite un attimo Perché non ho mai in sopita Volevo fare la sfida sinceramente Non mi ha migliorato gli NPC raga Non mi interessa Ma che me ne frega Vieni toby Vieni toby Vieni toby Vieni toby sana Dai padri Ma hanno rimesso la pistola Ma che sticcata Oggi hanno messo con la tempesta Eccola Eccola Oddio 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 Raga vi posso dire cosa fa? Oddio ma what? Aspetta prima facciamo una sfida No no Lorenzo Fa schifo Fai fulmini e incendia le cose Fa schifo Lorenzo Dove? Dove sa? Vieni lori Sbrigati Vieni Gred dai Dobby Ah No No ne manca ancora uno Fatti salire pure il mio padrone No dai fallo salire padri Sale guarda Vieni No dai in acqua No guarda Vieni Vieni Canne subito Vieni Vieni No non sale E se è un cretino Dalla nascita Perché ha seguito Norma di Lorezzo E' un cretino Dalla nascita Simone T'ho fregato il posto Iiii Vai Vai lì Vai lì Vai lì Patrick No voglio prendere fondazione Ragazzi S'è arrivato Di pezza S'è arrivato Di pezza Eddio Eddio Ti ho paura Eddio Ti ho paura Eddio Ma vuote regali E' fighissima Ragazzi Andiamo sotto Io sinceramente C'ho paura Uno di quei fulmini Di scelta male No io voglio andarci Ma che ti scelta Si estermina Eh raga Diventa pure più cupo Guarda Simone Questo qua Oddio Il fuco Il fuco agli alberi No che figo Bello E' impossibile E' vero Molto più cupo E' vero Ma andiamo a fare la sfida Rega Che sinceramente Mi interessa di più Ragazzi Sapete che se mi prende Veramente uno Uno di questi Volei a morire No ragazzi Ma no Facciamo Vicino a me Ehi Che fa Mi ha colpito Rega Mi ha colpito Mi ha colpito Che ha fatto danno La voglia Mi ha tolto Tanta di vita Rega Oh andiamoce Eh no no Troppo fuoco Via Io me ne vado là Dove Devo fare la sfida Ciao Ciao Ci fai Ci palpeggiano Per tutto il corpo Ci palpeggiano male No Padre Comunque Ieri Ne abbiamo palpeggiato bene Eh Ieri Non abbiamo palpeggiato bene No Io ho palpeggiato Come Eh a me C'è sta speciale Uh 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 Dubido 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 Che ne avrà Ma che volevi C'erdo Chiami da reggio Emilia Dimmelo Un faccio No aspetta Dossimo Vai Ci vogliono palpeggiare Meglio Dai padre Gli anni po' No 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 Devo fare la sfida Rega Se no dobbiamo rifarlo tutto da capo E non mi va Appunto Oh Simone Scappa Io la vado a fare Ciao Ma perché non parli Avevo ancora il muto Scusate Stavo andando con mia madre Ho dovuto fare una cosa Che ti ha messo in punizione Non mi ha lasciato Non mi ha lasciato Per i libri Ho dovuto ringraziare Ho comprato tutte le peramatite Che mi serviva No non c'è il tuo peramatite Ma fai schifo Perché mi si era rotto Mi si era rotto Magari non ho una gomma Pensa quanto faccio schifo Scusate Non c'hai quella grande Bella Schifosa Come sempre Che è tua Però carina No perché Poi l'ho persa Ti vedi che Come tu Me l'hai lanciata Ah raga Però mettersi La stessa skin Non mi ha veramente Mi confondo C'è il nome Scusate Chi siamo Scusate Ma una cosa Ma dove stanno i cosi I cosi per la Per la Per la Vedite Seguitemi i miei prodi Eretici Come me No 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 Un attimo Un attimo Un problema Stai un uccidente Dai Simone scappa Scappa Che Eretico sei Eretico Sto venendo Sto venendo Sto venendo Così buone Grazie che mi ha fatto Studiare Eretici 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 Caritas Ragazza qui Da me Caritas per 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 la carica infatti un mt scopi io per quanto non è stato per per scopi per per il tipo di quella brutta non la la l'ha l'ha distrutto ragazzi venite qua venite qua c'è le specialmente qua ma non mi ha fatto niente per la stigione il studio se non è vero che non è stato il mio spazio da ragazzo di spazio venite a bellarmi sempre il cifra cifra devi facciare spazio anche a spazio io fanno acqua parti mamma e seo prima che c'è la sera no no ci voglio padri che mi stai la sera padri morto come morto padri scusate così venico a vederlo massimo c'è gente corri come scusate scusa massimo la sera lo da qui sopra da simone da qui davanti che mostra qui sopra eccolo ucciso no è cresciato ma è cresciato scusa no padri è cresciato si è lasciato tutto il lutto qua no non ci credo non ci sta accadendo come li fa ma che è morto non ci credo eh guarda un po' su online no non è più online è morto è forte la vita reale ragazzi siamo qui a fare i saluti di morte per c'è gente attento io ti so io lo so maria no no scappa scappa no simone e vieni corri totale che da bravo ma ma si racconta le canate qua così moriamo no tanto che le prendi solo tu il danno eh mannaggia mannaggia siamo fuori sito pure di poco però di poco andiamo c'è un tipo non c'era niente una terra non stai oh ma mio l'altro morto ha cresciato oh ho fatto il team oh non è ma da si ma che dubb guarda tanto c'ho questo eh ma hai colpi si si è appunto mi serve per lottare padre ma sei cresciato si ma si hai pure detto e le chiedo per sicurezza a volte potrei essere stupido eh colpi pompa si ce n'ho tantissima aspetta con per primo questo vedi facciamo aspetta vieni vieni qua no non finisca eh vieni qua eh vai ti è più anche a rci dai c'ero 500 su full eh te prego che ce l'avevo sentato uno e mi tra no c'ero 500 chiamiamo tanto app a quando è in niente non lo voglio rinare chiedere poveri ai ricchi anzi persone ma mi sono fatto scoprire vai maruto e venti del bianco per amore di tutto e vai 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 letto che se ti lascia che è morto lì dietro per lì dietro dove vi stanno curando ok vabbè dato l'ho fatto vai non farli durare qua quindi qua al lato circostruisci pure non si stanno aspettando quel giusto che sia dovuto sforzare essere fuori stesso questo ma tranquillo se ci riuscire io non c'ho vita però e lo so non ho io pure ciò che il perso pure d'anno 30 anni di vita e di me non penso sei il perso sei c'è pure quaggianti di conto ora non vabbè non ha perso come fc ne ha puntato l'italia italia se resta nel mondo di città si cinta la testa l'esimane che la cura e poi l'itano ciao io ho mai da dare un giorno non c'è il cianciacco orti fermo non lo sparai non sparare appunto lo sparare che stessi che si vengono a procedere dato se ce l'hanno avanti cioè si mandiamo via qua ci cari faranno un po' se me ne andiamo vediamo un po' qua va bene dai 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 è l'unità e si trovo anche lei le mazono benissimo splish io faccio lo scudone fatti lo scudone e poi facciamo le sfide ok dai 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 così dai non ci arrendiamo non diamo in safe se no qua ci moriamo andiamo qui sopra sulle cose delle idee è pure una buona cosa perchè qua sopra ci sono tante cose chissà dentro dei miei con la seifo fai di un gol e non bello ma domani c'intero d'inglese non c'è in presenza spero di sì che ci sia come c'è sì spero c'è stanno facendo la ok in questo momento sento dire ci potrebbero cerchi in area bella massimo di metà dove rs e noi ci potrebbero cerchionare tutto intorno al vulcano rs attento nasconditi passati abbassati scusate questo tasto di segnato il suo istituto stiamo attenti dietro anche qua ce li troviamo dietro il nome che l'ha visto l'ho visto per te spari stanno un'altra stessa parte cala si 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 e li uccidiamo immagini e la tempesta ora rs carlo e di ricordo stanno la storia di attenzione dimmi se vuoi il tuo e tu sono in due spalle su eccoli la la stagione la stagione tuttavia l'arrizia dimmi se mi sono sempre troppo 10 sto giocando con le dita incrociate non devi giocare con tutti gli esseri sef 23 17 vai voglia andare lì a prendere i guanti no non vuoi prendere i guanti è scomodo sta lì sotto adesso si si lo vedo sto vedendo dimmi che siamo in safe per favore se mira per favore per favore per favore nooo la safe è proprio al centro stanno tutti lì sopra via 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 zitto 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 come facciamo basta che decidiamo la esercita ma se no siamo due di tre a questi quasi ultimi lo so per l'attento cerchiamoci passivo siamo in 32 vogliamo fare il giro la facciamo il giro dai dove sto da dove è da qua sotto perché non so dove vuoi fare il giro era sopra il 276 qua stanno proteggendo stanno vedendo no però dobbiamo cecchinare ti hanno visto vero no sono ancora qua tiene hanno fatto una cosa da quella parte osimo lì sopra guarda quello là era fermo no che peccato però che io prima sono fermo osimo noi dobbiamo andare no simo aspetta aspetta calma con calma tetto piano perché abbiamo spesso queste cose ci deve se non si hanno scoperto siamo scoperto si mostra qui non si vuole sa qua se non le stanno tutte qui sopra ucciso uno ucciso uno 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 sesta vita che sesta cosa se non è stato difficilissimo uno non è ucciso questo è un po' importante no no eh non tanto se lo meritavano non l'ho lasciata a 16 di vita no perché pensavo di averlo ucciso però cioè mi ha dato tipo che si era atterrato però non si era atterrato tornare alla lobby che se no non mandiamo il partito vabbè dai ci siamo giocati bene dai oh io non ci sono tu non hai ucciso un altro vero è quasi ucciso perché mi ha smesso di sparare dai ci sta ci sta ci sta ci sta no che bello padri eh quella non ce l'ho quella è quando non giocavo tanto eh io pure quella skin non l'avevo finito col passo però ce l'ho alla skin bassa il gladiatore piaceva tantissimo l'ho completato tutto a setto però ci sono riuscito e se cosa sa io con la season 3 ma che skin è? è il gladiatore a me piace un molto il gladiatore non ce l'ho? non è possibile quella stagione mi ricordo che sta arrivata al livello 100 vena vena mena mannace 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 uno trenoco ~! ... ... c'è il globo che il globo la simulazione che ti dico in grado orazio curazio.com petto padre guarda aspetta ti aiuto così ma così fa schifo aspetta fa schifo per dire il rosso e il blu oddio fa schifo io sono sempre di colore simone però non direste parole che potresti insultare qualcuno non insulti l'opatria 1 2 o 3 molte cose sono molto bravi o padre 1 2 e 3 che brutto questa cosa dire roba perchè non dire bene no non è brutta la verità carina molto bella però è un problema 2 3 2 3 3 3 no allora che bello comunque di 7 i penici ragazzi ho già letto tutto il cat dell'arioto di ciò che capisci ragazzi è che era prima a farlo devo fare prima capital e poi il cosino quale che cos'è comunque è bello che quando tu metti la la le motte di iron man cioè no di iron man di di spiderman ora lì che è stata sen giù il mantello segue la fisica di spade non quella terrestre cioè perfetto spider frog spider frog nel mondo tu sei frog ragazzi lo stai riteno troppo lorenzo non mi vabbè devi piangere 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 ti viene insieme a me a quell'isola perchè a me non me l'ha data la visione prima eh me no no io no sono già sono già siamo già crocevia è stato sono già crucivia cronici 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 no? cronici 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 cosimo nel senso la visione troppo oh no siamo a me fatta la caurata siamo morti prendi la giampa e scappa c'è eh adesso c'era qua allora venite da qui simone no facciamo il tempo che stai facendo cosa si fa ma restiamo qua simone corri scappiamo perché siamo in tempo ma cosa sei scemo allora sono stessa perché siamo andati qua sono un cretino per scappare no eh andiamo in una guerra però pure a fare live su qui capito il signorino che vuole dire che vuole essere come l'ora come simone un po' di tempo fa anche poi ha smesso cos'è fa no dico quando è smesso smisi di fare cosa quella di quando smessi di fare il live perché non è andato a prendere tutta l'attrezzatura sull'attrezzatura 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 è vero bambino è vero bambino è certo è certo dai non fatemi piangere se piange è meglio no con una pistola faccio non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo beh vabbè è un'altra scena è dietro è la bella la bestia sono una sparata nelle delle mi dispiace ma voi siete scelmigli ma c'erano due che hanno la sera dove gli disegni ragazzi sì o no no date grazie lei mi sa leggere adesso è capito il sito la cassa di fuoco che? la cassa di fuoco 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 stenga il termos tra le mie mani anche se il calore è del te si ormai risolto nell'area gelica i miei muscoli sono contratti per combattere il freddo dai simone dai in questo momento comparse una muta di cani selvatici le probabilità di riuscire ad arrampicarmi sull'area ma posso aggirare una giunta normale? dovrei alzarmi mo per stagiarmi le membra irrigidite e invece rimango seduta immobile come il masso che sta sotto di me mentre l'alba comincia a rischiare i buoni padre l'hai preso pure quello nell'altra isola dove è iniziata la sfida ma posso lottare contro il sole posso solo se farlo con un senso di impotenza ti rimane solo questo qua mi trascina in una giornata in un numero a mesi a me ce lo sanno tutti nella mia nuova casa dai simone il vincitore di giornalisti e troppo di visibile persino è un giunghe no 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 faci compatrice arriveranno da capo a sé di 112 mi chiedo se poterà ancora quella superfaccia o se per il tuo della vittoria suggera qualche nuovo strano colore ci saranno anche altri ad attendermi i personali di servizio che soddisferà ogni mia richiesta durante il servizio durante il luogo viaggio in treno non mi interessa io dico cinna autore dei costumi che hanno indotto il pubblico a notarmi si dall'inizio degli angeli bella brusso è forte pure io guarda che muscoli così arriva pagina 53 così stiamo pari fa quell'occhio allungato però che cosa che cosa mi ha detto che c'è non c'è i muscoli sei su se lorenzo ho detto lì la pagina 53 lo so ma ancora adesso si ok allora in selecce no sto sbagliando stavo leggendo in casa è rivolta sta per lecce proprio oh dio no lorenzo un attimo ma la coperta la copertina eh nel secondo libro è bellissima lorenzo un atto te l'ho detto è bellissima però anche il game non lo so ma veramente ma io sono sbagliato è bellissimo te lo devi leggere è bellissimo io ho visto anche se ma non è vero fa cagare il film ma la manga game del libro è molto bello lo so fa cagare sul sul film perché su film anche l'ho visto fa cagare però un libro è meglio si è vero ma le ho che poi mi hanno rovinato che cina non si dice cina ma si dice sinna cioè io mi hanno rovinato l'infanzia oh vi giuro padre tanto non ce la fai che ne fai ma abbandoni no che voglio provare prima devi morire poi devi abbandonare giusto non ci sto che sia eh la troverà lorenzo francesco gennaro gattuso eh federico ma massimo genoveffo che cazzo ti ho eh 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 mamma mario eh 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 di di dario che dov'era tutti gli uniti per ucciderlo come i favoriti no io ancora non l'avevo letto il primo in realtà il primo ho fatto finta di leggerlo ah 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 certo come sapevi tutte quelle cus che mi ha già la cutta oh simone ti basta dire chiediamo chiediamo a tutti sai cosa va a succedere il risorgimento certo eh chiediamo chiediamo allora posso parlarmi io prop no tu ho visto adesso poco tempo fa il video su quello che ti avevo raccomandato alla classe di vedere alla classe poche classi cioè eh formate da Lorenzo Cavicchi Lorecav Lorenzo Calvicchi Lorenzo Scavicchi ma non apra Lorenzo Lori eh e basta siamo piccola come classe però dai qualcuno c'è però non mi interessa se gli altri non sono sempre la stessa persona identica però dai a parte che tu ti chiami Lorecav quando mai qualcuno ti è chiamato Lorecav diciamo noi Cav nessuno ti è mai chiamato Lorecav ma ti è sempre chiamato Lorenzo Lorecav ah cagare allora Lorenzo cagare e v per vittoria no baccare cagare no vi mangiare v viscido viscido Lorenzo cagare viscido oh dio cimone ma domani c'è pure se l'abbiamo finito prima il libro cioè ce lo fa comunque discutere in classe oppure c'è solo da mercoledì prossimo perché la consiglia di tecno non ce lo fai vero perché no no io lo chiedo comunque ho visto l'arena su l'arena di Hunger Games su quello mi hanno anche quello rovinato perché pensavo che era un altro modo con l'arena mi hanno rovinato è tutta circolare io me la immagino circolare l'arena io me la immaginavo un po' più bella invece come faceva schifo ci fa cagare voglio come te Lorenzo no padre non ti nascondere c'è tonno c'è tonno c'è tonno padre la sedia se sali dentro al tornado muore di danno da caduta perché ovviamente di dire a se parlare scusa la vita reale non voglio morire appunto non c'è un'area dove i diritti avviso non provateci a casa possiamo ne provateci a casa non ci vogliamo non provateci a casa ma vuoi che gli youtuber oppure la gente famosa dice non provateci a casa allora perché voi lo fate a casa e e e e e siamo intelligenti siamo due persone siamo tre persone intelligenti oh mio no no se domani potrebbe evitare se certo noi no 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 come vabbè dai fredgenne è conosciuta dai fredgenne è conosciuta per le nevicate non è quella però fredgenne dai ecco non molto conosciuta per quattro sono i ricchi no te lo giuro simone sul medici c'è scritto neve ma non ci sarà neve ma fidati fidati e però c'è l'allerta medio e vedete se domani ma fatti che non mi ricordo ma l'allerta di meno si vede la mattina se fanno entrare o la sera si non fanno entrare la sera scuola è la sera eh dicono che per il giorno dopo non si vede la sera e per il giorno dopo mi sembra certo non vorrei errare quindi stasera dovrò dirlo ma non penso che non ci sia tanto tanto sai chi ci sarà sicuro bella betta di franco la professoressa di italiano di italiano di italiano vabbè su nomi su nomi almeno la professoressa di italiano la professoressa di italiano la corrucco la corrucco la corrucco la corrucco la corrucco la corrucco c'è un po' l'ammiro per questa cosa e cosa è disponibile eppure il soggetto x no quello sarà in sarà in carcere perchè adesso perchè sono appena uscito dal tribunale senza di te non me lo dimmi scendolo su guarda come posso dire una cosa secondo me ma non è possibile che era così semplice la verifica di scelte di oggi secondo me ho preso 10 peccato che non lo mette il 10 ho preso 9 peccato che non lo mette va bene le verifiche infatti lei non lo metto i 10 perchè le fa tanto facile ovviamente per l'interno no perchè poi non ti ricordi che poi le avevano i soldi dallo stipendio eh 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 no quello però fa con inglese quella è la con inglese che sono le avevano i soldi dallo stipendio quindi avevano gli inglesi e poi se a me aveva messo 10 meno da verificare l'inizio del resto c'è sempre dato la bustilla del tempo c'è 10 meno 10 e l'ode va ben 10 più 10 no 10 no 10 no e se metti 4 ovviamente glielo mettano perchè ci sono il tempo fai così ti immagino fosse davvero così utilizzare nemici no non ci pensi a questa strategia ma cosa ho fatto attenzato che fai ne manco avesse 90 per non farlo usare esatto perchè così ne fanno utilizzare 200 ma che ne sa che c'è una cucina che ma se stanno approfittando un po' ora lo cecchina non interessa ci arriveranno chissà vabbè se lo faccio sempre rompere un albero mentre stanno si sta in sette un albero poi grosso che mica si vede mentre sta 1 v3 ah invece sono due team e uno e che sta in blu 1 v3 v3 è grande eh 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 patrì ora lo cecchino si certo così PAM se va adesso è sessuale no sensuale non lo dite cos'è no bomb ecco tu me ma che problemi hai dire stata no padre stanno rianimando è sensuale ti conviene andare a pushare perchè fate sei uno hai visto quanto tempo ci mette eh vabbè è finita no padre no scendono ora tanto ha detto ti sei auto fregato te lo dico eh no c'è pure l'altro eh sempre eh sì no patrino se la uccide se la uccidano tutti se la uccide tutti se la uccide tutti patrizio ti dico 100 ero più poi dal lorenzo no anche no certo tanto ce la fa no è fortissimo no no eh se ce la fa ce la fa se ce la fa se ce la fa non ti conviene dire che ce la fa non c'è pepole non ce l'ho ce l'hai ce l'hai ce non ce l'hai vinto ma ce l'hai questo oddio 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 è nannata mette 100 mette 100 ero necessario comunque siete proprio dei cittoni perchè è tornata là viva è proprio scritto quale come te fate scritto no ah mi piace perchè era stato perchè era stato o 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 ma come ci allora se l'orex uccide l'orex capi chi e se l'orex uccide l'orex capi chi perde 70 i ah 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 perché pensiamo due scemi passare gli scemi oltre a vedere di youtube la scelta di twitch venite qua dai noi siamo l'orrendaggine di twitch se io sono entrati in altre live vedi a quale ha fatto ragazzi ha fatto lo devo posso dire questo scemo ha fatto iscritto ricambio tanto lo sanno io l'ho detto non è vero abbiamo fatto il live il video chiamata non il live scemo ah no era prima siamo delle turbine posso fare una cosa ucciderti la tua testa sei certo? Lorenzo guardate da fare la scema di tutto e lo si muove domani arriva the back of harry potter no a stick of harry potter I'm sorry sir I'm sorry 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 I'm sorry ma ti vuoi essere scemo da più scemo ragazzi tutta la stessa segreta è mia i polli sono miei accento al bar l'interno 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 fin a fine livello si potrà arrivare c'è la sfarsi forse però siamo 300 amici che ti usino non è mica sempre andiamo a prendere la cabina o no sono baccati così da cabina perchè? vabbè non me la da vabbè sta 60 alla volta questo vabbè sta 60 alla volta questo padri sto cercando di fare il mio record i polli sono miei tutti i polli alla destra allora tu mi sono miei tu ti puoi alla destra? tu ti puoi alla destra? su un attimo 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 eh aspetta tu ti puoi alla destra? eh e lo resto è un punto ragazzi due mille ragazzi due mille ragazzi ma di cosa ragazzi 8000 mi ora è cosa ma va a tu smira comunque non mi dava i cosi della cabina me ne da 60 alla volta quello della cabina beh no guardate proprio niente si vabbè già sta 2000 se ne è tornato si vabbè io sono quasi quasi 6000 io sono quasi 6000 io sono quasi 6000 ma te quanti polli spawnano? a me ne spawnano solo uno guarda vieni qua vieni qua vieni qua guarda vieni qua guarda vieni qua a me 50 si vuole un pollo è venuto alla sinistra quello è la tua testa scemo ma cosa era la cosa scemo era la cosa scemo ma ho uno scemo rinclitinito lui veramente a livelli estremi si cioè mi saremmo come la cosa non è fuori ah no la rivicida di prima guarda e se non mi fai uccidere basta l'ultima volta eh sheep hai rotto le scatole no dai dai no ti prego no no amammazzami dai no scherza o scherza o scherza che erb l'unità per gli anni voli io no e che con la buzza di fumo io ho fatto niente ha fatto casino a lui l'unità lo studio l'unità 6 dvd 6 spade di basta ammazzare grazie no 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 scherzo scherzo mi ammazzino del mente ma che senti perché trova ammazzato prima allora eccoci però inutilmente non è motivato a tetto c'ha le app ok 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 abbandona dal timone abbandona vabbè mi ammatti 30 volte credo sono qua stanno ammazzando lui ma sono qua specifico simone potesse pacifico pensare c'era due oltre se mi c'è di noi io l'info così l'info non ti sfondo più ma se scemo ma se scemo ma se scemo e non è so eh ma ti metti che vuoi ti metti che sto spaventando vedete il sparo attivato alla bucce legge chiudiamoci attenzio il muoce di il bottone del build reset che vede da 400 a botta chi il 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 calo il calo di red vero è utilissimo non lo fa premere stati fermi non stavo sperando all'ultimo ma vabbè così mi ammazzate ma lo so ma lo so ma fai schifo non lo faccio schifo non dica a te dai la taglia perchè gli ho fatto 250 o 2 se l'hai sentito per tutta la vita oh non ti ho fatto niente anche anche il segreto bottone anche il terzo ehm segreto bottone dai 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 stava 55 mila 60 mila mi potevi ammazzare no basta no no basta oh toccami gamba io li fare eh toccami a gamba io li fare eh ok 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 no che bello mi hai lasciato sempre volta basta ecco ma sono contento ah ah mi sento tu effettivamente il segreto botone oppure qui danno ci fa ah quello là mi fa 400 questa volta oh no non capisco o no me ne dà tipo 3 ah fa il stilo no 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 me ne frega niente tu mi suicidi da 2 ore io devo suicidio da 3 vabbè niente il mio padrone no vede non da più tanto c'è dopo un po' dai simone mio è mio scusa padrone ehi google elimina il timer si devi mangiare oh poverino devi mandare a mangiare oh è rucca no scherzo non ti ammazzo non ti posso ammazzare fermo oh mio sono ricurato ehi google basta ciao a livello da vero dai fermo il nostro simone no no ora sai che se io ti posso uccidere se tu mi uccidi io ne vado io ne vado più dai pari di me io ho il potere tu no io ho il potere tu no no chissà dopo a 3 qua che si va non potete fare la cosa della per andare a fare il cavallo vieni 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 qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito le forze occhiali come te ma non so sordo ci siete ancora per fortuna dai che cosa possa ammazzare ho sentito il simone però è rotto no io gli sparo no 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 lo ho sentito in porta in porta guadilla no 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 mi tengo ammazzare no mi tengo ammazzare non mi devo ripetere ma non sei cretino guarda che è un cretino rato e te lo dico mi uccidi mi uccidi che mi serve io sono questo qua uccidi mi devo prendere le pie lorenzo questo qua uccidi mi uccidi che mi serve la pie io prendi grazie tu volevo curare io ti ho salvato questo mi serve io devo prenderci e devo fare i nuovi livelli lorenzo a te ne ho non me ne frega di quello che vuoi tu dai cimone rotto però io sono questo qua e allora questo qua che sa l'arcopruzzolante in mano quindi no scusa ho sbagliato spiderman se non l'ho portato io poi no mi uccide sennò che può loro sono sceme loro sono sceme la raga pace due pace perché stai insieme a perdere pace la pace non esiste posso ammattere quelli sono io io ho un po' cificatore facciamo che vi lo state e ki parai non lo uccido ok ci dici di me ci dici io no con lorenzo perché tanto se muore muore lui e non voglio io ora cazzi di città se non è 15 di lorenzo non faccare sempre non sono io sono io sono io sono io che amato da ragazzi ragazzi da venire salutiamo tutti insieme facciamo la ragnatela dove sei? siamo qui in una vera stanza dai venite qui non l'ho sparato perché pensavo che era pacifico ma invece come sempre mi deluna allora ragazzi noi ci vediamo tomorrow on the live spadermen non mi prendevo 10 10 10 non ce l'hai tutta la vita io lo so ragazzi noi ci vediamo domani con la prossima live e goodbye bye